Salve, sono Andrea De Satti, ho 57 anni, sono alto 1,75, attualmente vivo a Roma dopo aver passato dei periodi in altre regioni e in altri stati d'Europa, per esempio Germania e Francia. Ho iniziato i miei studi a Roma presso il Centro Studi Acting e ho esperienze in ambito teatrale, cinematografico e televisivo. Grossa parte della mia vita è stata rappresentata dallo sport, per 15 anni ho fatto pentatron moderno che consta di nuoto, corsa, tiro, scherma ed equitazione. Ho vinto diversi titoli nazionali a squadra e un titolo individuale. Una cosa più importante che mi ha insegnato dallo sport è fare le cose seriamente, pianificarle e metterci tutto se stesso, cosa che attualmente uso normalmente nella mia quotidianità.